e per ritornati ragazzi in questo nuovo video io sono Ticca Gamer e oggi siamo insieme a SERS91 saluta ciao nella vanilla dove oggi ninja gamer non c'è non so se registreremo un video insieme a lui oggi comunque in questo episodio andremo a esplorare il nether nella stanza che abbiamo creato nello scorso video in caso non l'avete visto guardiamo per terra così non vi fate spoiler costruendo il terreno sono entrato nel portale o ehi cacchio torna indietro ok c'è del quarzo lo prendo subito subito oggi cerchiamo di trovare la fortezza se riusciamo mamma mia non so dove sei ma ecco ero caduto non vediamo niente ok allora se riesci il quarzo cerca di prenderlo tu siamo venuti solo per prendere il quarzo no ovviamente anche per laggiù ho visto una fortezza quasi muore è caduta da morte laggiù ho visto tre ma c'è il macchino diventare no è una vanilla sa c'è un piccolo problema ma secondo te se ci buttiamo da qua moriamo ma certo che secondo me no eccetera eccola lì dove potremmo cercare anche delle blitz road credo che si chiamano i magma blocco questi sono sotto di te pure perché sono ti uccidi poi se c'è se li vai a fianco non ti fanno male però se li vai sopra e basta che ti butti ok tu hai un'armatura si ok ok abbiamo preso un po di quarzo che straordinario è finito nei blocchi di magma vedi ora che è diventato qua quello davanti a te ha perso ha perso la testa un po no credo che i piccoli siano fatti proprio così ok andiamo nella fortezza è un po alta mi chiede perché ho preso fuoco allora calmiamoci se ti sposti così magari non beccate con le frecce che non poche così ma qualcosa mi fa solo spiega le frecce e però io ho portato pochi blocchi perché sono stupio ci dobbiamo fare un pillard 25 euro c'è del nether e si però se sti così mi danno vuoi un 2x3 dai però ti devi muovere cosa esplora dobbiamo farci un pillard allora questo credo ah no c'è lì il punto più alto è questo non voglio sprecare troppi blocchi maia ma stai morendo dai non morire che per di tutte le cose ti ho fatto pure le cose in diamante non morire mangia scusate ragazzi sono stato un attimo fermo oh ma ci sei? seguimi ma che fai ancora lì? e da due ore che me ne sono andato da lì? li sto curando con il cuore ok ehi ma quanto è profondo caccio sono finito proviamo a scavare di qui ok raga ma dove sono? ok ecco ecco qua la fortezza la smetti di prendere poco? ops ok facciamo così ok sono arrivato tu a che punto sei? sei almeno salito di qualche blocco? si tra quanto arrivi tipo? tre anni eh si vabbè raga metto un attimo in pausa ok rieccoci siamo arrivati c'è un blades qua no ma io non voglio rischiare di cadere allora cerchiamo di andare lì sopra dai non dirmi che ci avevo messo due anni perché ed è pure una fortezza scrausa credo sia una di quelle fortezze scrause o forse no allora tu stai andando di lì io vedo se di qui c'è qualcosa prima cacchio non ero shiftato ah no ok perchè io rischio sempre di va perchè si è rimesso l'autogampo io l'ho tolta l'autogampo io lo so già che l'autogampo mi porterà alla morte lo faccio il salto della vita? quanti blocchi sono? oh ho trovato un passaggio ciao blaze possiamo parlarne? ciao wither possiamo parlarne? da me c'è un wither skeleton dove mi viene da aiutami o te ne freddi? mi sono buttato no oh wither skeleton del cavolo oh ma dove sei finito? dove sei? non voglio morire oh sembra che basta pochissima vita vedi l'hai ucciso? si vedi ancora ti ha droppato la testa no uffa peccato eh sto blaze schivoso se ne vola perchè ha paura sto stupendo qua c'è una cassa beh mmm potrei prendere queste qui che mi servono penso che ho visto una breccia e la su sen ovviamente si spacca con la spada per che serve la verrucca del nether? per fare le pozioni ah pensavo di farcela ehi si vabbè non esploriamo la stessa zona se non non ha senso dai oh wither skeleton ok un altro pie pie oh no dai ho quattro cuori tre cuori pie lo scheletro dietro dietro no sa eh eh aiuto aiuto ti prego nani c'è altro? qualcun altro c'è? eh? non ho capito c'è qualcun altro? che vuole romperci? no eh? eh? c'è qualcun altro? io ho visto una cassa si lo so è di qui lo posso aprire io? eh volevi ok le c'è un blades attenzione io ho paura no non bisogna avere paura eh si mo c'è un tetto e dove scappa? cacchiarola ok qua bisogna ok 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 bravo resta lì qua bisognerebbe tappare ehm io sono un po' incasinato sono in mezzo a tre blades attento dove? dietro di te l'ho ucciso ok si però io muoio bruciato mangia ho mangiato muoio bruciato ok ok sono rimasto con un curo e mezzo dietro di te due blizz ma sono lontani più uno scheletro io non credo di andare a sfidare mmm no andiamo mmm io ci avrei una mela d'oro però no tienitela tu aspetta ma la c'è un uiter 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 più uno scheletro più due blaze attento attento cacchio quante frecce ho sprecato cacchio quattro a noi serve l'incentamento di infinito ahia però fanno male ahia e vabbè ma dove stanno vabbè cerchiamo di andarcene va abbiamo esplorato fin cioè in realtà non è che abbiamo esplorato tanto solo che è pericoloso metteremo tanto sfondo qua è alto? abbastanza c'è anche la lava allora cominciamo no scavare per uscire il basso sarebbe una pessima idea allora andiamo di qui ah c'è una cesta ma l'abbiamo già preso o no? dove? quando? lì ah no qua potrei creare un passaggio ah no la stessa vedi qua potrei creare un passaggio ho creato un passaggio ok attenzione ancora ci sono i blaze allora ce l'abbiamo almeno una blaze rod 2 sto per cadere cacchio shiftati qua allora di qua si scende senza problemi tu quanti livelli hai di esperienza? siamo a livello più dove? 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 muoio 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 tutta la vita muoio muoio no allora tu non devi venire a rovinare tutto quello che abbiamo passato no no come fanno che sei morto? muoio muoio cioè qualcosa non è morto addio 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 amici addio che gioia Noi ci dobbiamo lasciare Io lo incanto, basta Cacchio, è vero, ci serve l'incudine Quanto ferro abbiamo? Io un botto, anche io Allora, ci dobbiamo fare, se non sbaglio, tre blocchi di ferro Aspetta Incudine Perché non voglio sprecare ferro Tu hai del legno, vero? Ok, incudine Sì, servono i tre blocchi di ferro Posso farne uno, due, tre E a questo punto ci craftiamo l'incudine Ok, per ora la mettiamo qua Arco Cacchio, è vero, io ho perso tutti i miei livelli Tu quanti livelli c'hai? Di sotto Me lo incanti? Se vuoi ce ne ha anche un altro di infinito Però devi venire in moved Allora, vediamo La cesta grande Ce ne dovrei avere una Ok, ce ne ho un altro di infinito Incianta Aspetta Raga, metto un attimo in pausa Ok, ho incantato l'arco Bellissimo, un arco balleno Vieni che ti do le frecce Ho perso tutte le frecce Ma te per caso hai raccolto le mie frecce? Sì Ok, me le dai una? No, una Perché ho infinito È una? Wow, ora posso sparare frecce Ok Cosa altro possiamo fare? Vediamo che incantamenti abbiamo Infinito Fraggello Protezione dal fuoco Perché non mi fai incantare? Eh? Perché non mi fai incantare? Cosa? La mia spada Che è un che incantamento? Che ho visto Ma è infinito Piacere che non te lo fai incantare Ma questo è un'incantare Forza Ok, io ora Prima di andare No, no Nel letter non ci andremo per un po' Abbiamo capito Sono arrivati a 15 minuti di video Quindi io dovrei andare Un attimo a 16 Prendendo C'avevo gli smeraldi Sei E andando a vedere Se i mercanti Vendono qualcosa di buono Se sto downloader No Sul tetto sta Ed è pure caduto Cosa? Il tizio con i lama Ma ammazzalo I lama no No, ma il lama è caduto Nella buca Poverino Beh Lo sai che possiamo prendere Solo un lama, vero? Resta qua, cavallo Lo sai che possiamo prendere Solo un lama? Chiudo Allora Se va bene Metto in pausa Nel tempo che arrivo, va Ok Ho preso la sella Che abbiamo trovato Nella fortezza Dell'end Sperando che il cavallo Non Cavallo Tu sei bravo Eh Per quanti blocchi di legna Servono per craftare Una cesta Otto Apri Oh Quanto sei bello Ma hai pochissimi cuori Ma Ma Fa schifo Guarda Dammi il cuoio Tu invece Cavallo Muoi bene Però deve essere Un buon cavallo Cavalca tu Allora Di cuoio Ne ha Non mi puoi rifiutare Sono bravo Mi li hai fatti i cuori? Ok Vediamo Allora Allora Di saltare Salta Beh Di correre Corre al basso Vabbè Mi accontento Di questo cavallo Ciao Per ora Tu entri in casa Ok Chiudi la porta Che sennò Scappa Scappa Sei libero Eh Bene ragazzi Per questo Per questo video Di minecraft Potrei dire Che è tutto Perché Non ci fa Cosa Non mi hai detto Un cactus È cresciuto Raga Vi ricordate Quando il cactus Era Dammi l'ossidiano Era mio Ah L'ho messo Nella mia cassa Beh Non ci ho voluto Tanto a prenderla L'ho presa io L'ho presa io Dammela Quanti sono? Quattro Beh Giusto giusto Andiamo nella nostra Cara Fitting table Raga Vi ricordate Quando il cactus Era solo Di un blocco Poi È cresciuto Ed è diventato Mio figlio Ma come Non c'ho i diamanti Se vuoi tenere Dove uno Io No Io c'ho i diamanti Solo che Aiuto Mio figlio Mi sta uccidendo Ok Mi aiuti Mi sta uccidendo Mio figlio No Allora Dove? Eccolo qui Vuoi almeno Guardare come sto morendo? No Va bene Piazziamo la nostra Enchanting table E direi che per questo video di Minecraft è tutto Ciao da TheGazzaGamer Ciao da No Dal cavallo Ciao cavallo Saluta Lo so che da grande vuoi fare lo youtuber Saluto Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.